amici di fano tv ben trovati in questo approfondimento in studio faremo una sorta di viaggio virtuale sì perché il 2023 possiamo dire che è stato l'anno della riscoperta della montagna con tutti i benefici poi che ne conseguono quindi parleremo di come vivere la montagna e soprattutto di come farla vivere ma anche di molto altro insieme al nostro ospite in studio buonasera a Michele Oradei buonasera ciao buonasera a voi e ai vostri telespettatori allora respiriamo aria buona per l'appunto l'aria di montagna giochiamo su questo fattore grazie anche a queste bellissime immagini perché tutta la regione Marche è ricca di luoghi fantastici sì non solo il Monte Catria chiaramente qui nella provincia di Pesaro abbiamo il Monte Nerone il Carpegna fino a poco tempo fa c'era anche l'eremo di Montecoppiolo che adesso come sapete è passato con l'Emilia Romagna però sempre di aria interna parliamo tra l'altro tu sei anche gestore degli impianti scistici del Monte Catria sono uno dei gestori siamo più soci e quindi ci diamo da fare e ci aiutiamo perché una persona sola chiaramente non può fare tutto questo allora si è registrato un notevole boom di presenze quindi direi di dare anche qualche cifra importante sì e questa è la cosa nuova diciamo di quest'anno perché nonostante come dici tu che la stagione è partita un pochino in ritardo però siamo riusciti a fare una bella stagione perché alla fine abbiamo fatto un mezzo e mezzo di neve e le presenze da noi abbiamo avuto circa 15.000 primi passaggi da qui appunto vanno aggiunti i passaggi delle altre stazioni non solo della provincia di Pesaro ma anche del Maceratese perché non dimentichiamoci che la montagna delle Marche ha una sua area importante nel Maceratese parliamo di Frontiniano di Sarnano di Bolognola di Ussita e quindi tenete conto che ci sono stazioni ancora chiuse purtroppo per gli eventi del terremoto tutto Castel Sant'Angelo sul Nera e quindi la montagna nelle Marche è una parte importante quindi con le nevicate in ritardo comunque un dato assolutamente notevole e rilevante ma quali sono stati i fattori determinanti di questo successo è facile capirlo gli investimenti quindi dobbiamo chiaramente per primo dire grazie alla regione Marche che ci ha creduto e continua a crederci adesso e le prospettive sono che investirà anche nel futuro e quindi investimenti pubblici ma anche investimenti privati cioè noi aziende che abbiamo creduto in questo progetto montagna e abbiamo messo soldi nostri pensate che solo da noi al Monte Catria abbiamo investimenti per circa un milione d'euro in 8-10 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire avere acquistato il rifugio, vuol dire averlo ristrutturato, vuol dire i servizi perché poi è vero che il pubblico investe nelle infrastrutture però queste infrastrutture poi ci deve essere qualcuno che le gestisce perché come sappiamo il pubblico non è organizzato e non può fare la gestione e quindi agli investimenti del pubblico cioè che sono innovazione degli impianti, innovazione delle attrezzature che servono per gestirli questi impianti, lavori proprio prettamente dedicati alle piste, alla messa in sicurezza perché i nostri impianti erano e sono ancora in parte molto vecchi per esempio le piste da sci. Oggi abbiamo dei parametri che una volta non c'erano, parametri di sicurezza stiamo parlando, quindi le piste vanno messe in sicurezza con dei piccoli allargamenti, tolti i punti di pericolo e quindi qui è intervenuta la regione in maniera sostanziale e determinante direi. Assolutamente sì, quindi un connubio tra gli interventi del pubblico e del privato e ovviamente con tutti i benefici per tutto l'indotto, benefici che partono comunque dal turismo e c'è anche un trend turistico insomma diverso perché prima c'erano i turisti così definiti pendolari, no? Certo, siamo passati infatti con queste tante presenze, cioè la parte determinante di questo turismo cos'è? È che come dicevi tu siamo passati da un turismo giornaliero pendolare a un turista invece più stanziale, cioè nel senso che si ferma due o tre giorni ed è qui la parte fondamentale ritorno per il territorio perché fermandosi due o tre giorni il turista cosa fa? Dorme nei nostri territori, li visita, magari gli viene voglia anche di tornare perché chiaramente nei nostri territori interni ci sono delle cose bellissime e va a mangiare nei ristoranti, fa colazione nei bar, visita i negozi, compra oggetti, cioè avviene un po' in più piccolo quello che avviene nelle grandi stazioni del nord, cioè il turista si ferma e poi dopo gira. E quindi il turismo montano è diventato proprio volano di tutta l'economia di questo settore, quindi parliamo dell'aspetto enogastronomico con le tipicità a chilometro zero dell'artigianato locale per esempio? Sì certo perché questi turisti che, ricordiamolo, cioè fino a qualche anno fa era impensabile che al Monte Catria o al Monte Nerone venissero turisti da Bologna, quest'anno è accaduto questo, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che questi investimenti che la regione ha fatto hanno portato via turisti da altri territori ed è questo lo scopo, far visitare le Marche. Pensare che una volta da Bologna si veniva a sciare al Monte Catria, cioè ti davano un pochino del visionario, no? E invece questo è accaduto, Bologna, Cesena, Rimini, Rimini è abbastanza vicino, quindi la gente dorme, va nei negozi, compra i nostri prodotti e quindi è anche un modo per far conoscere le nostre eccellenze del territorio. Teniamo conto che nel nostro territorio, io sono anche il presidente del consorzio Terra del Catria, che è un consorzio che si occupa di promozione del nostro territorio, come dicevamo ha praticamente cinque dei sei cluster di eccellenza della regione Marche, il sesto è il mare, quindi genius of Marche che sono i teatri, la cultura, enogastronomia, borghi e colline, appunto parchi e natura attiva e non per ultimo il turismo della spiritualità e meditazione, quindi pensare al manastereo di Fonte Bellana che è organizzato benissimo, i frati l'hanno organizzato dentro si può dormire, si può soggiornare addirittura, quindi abbiamo tutte le eccellenze da mettere in campo. E quindi uno degli obiettivi, lo sappiamo, della regione è rivalorizzare le aree interne, fare investimenti importanti che sono fondamentali anche per aprire nuove attività, questo può essere un bel input anche per i giovani perché con l'aumento del turismo servono più infrastrutture. Certo, perché cosa succede? Succede che questo turismo che noi abbiamo trasformato, diciamo, da un turismo giornaliero a un turismo di più giorni, fa sì che nel nostro territorio ci sia una richiesta maggiore di infrastrutture, perché per esempio noi quest'estate non siamo riusciti a dare ospitalità a tutti quelli che l'hanno chiesto. Dal Monte Catria o anche dal Monte Nerone abbiamo dovuto mandare gente a dormire a Cagli, a Pergola, a Cantiano, si sono riempite tutte quelle strutture che addirittura negli altri inverni erano chiuse, perfino fino a Colagna. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna continuare ad investire, chiaramente, perché questo turismo adesso per mantenerlo così non possiamo limitarci a un turismo di due o tre mesi, no? Cioè perché adesso facciamo un mese e mezzo d'inverno e poi luglio-agosto. Allora, per fare in modo che nuove attività crescano dobbiamo dare una continuità, dobbiamo fare in modo che questi due o tre mesi diventano dieci mesi, diventano 365 giorni all'anno e questo noi lo possiamo fare tranquillamente con nuovi investimenti. Quindi bisogna continuare ad investire. Quindi destagionalizzare un po' il turismo montano potrebbe essere una delle sfide per il futuro. No, no, questa è la parola d'ordine. Ma tenete conto che questa è una parola d'ordine che stanno chiaramente mettendo in pratica anche le stazioni più blasonate, perché anche loro stessi si sono accorti che solo con l'inverno non andavano più da nessuna parte. E vedete, infatti, è sulla bocca di tutti, no, il boom anche estivo delle stazioni montane, anche del nord. Noi ce l'abbiamo ben chiaro, perché già dal 2015 abbiamo fatto un Kinderland Adventure Park, che è l'unico della regione Marche a 1.400 metri sia invernale che estivo. Il Bike Park, che purtroppo adesso ha avuto grandissimi danni con l'alluvione del 15 di settembre, verrà ripristinato. E queste sono appunto le sfide per il futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire che servono nuovi investimenti, chiaramente, questi nuovi investimenti devono andare in questa direzione. Per l'inverno bisogna pensare ad un'azione di innevamento artificiale, che la regione sta già sostenendo da diversi anni. Infatti ci sono già progetti che sono partiti anche giù nel Maceratese. Pensiamo al progetto di Castel Sant'Angelo sul Nera, che è una stazione che, come dicevo prima, deve riaprire, ma già stanno facendo l'appalto per l' innevamento artificiale. Stesso discorso vale per Bolognola e da noi abbiamo già fatto una predisposizione. L'innevamento artificiale nella regione Marche deve essere visto con molta prudenza, chiaramente. Perché? Perché non possiamo pensare a un innevamento da zero, come fanno in montagna. È impensabile e non è sostenibile sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista ambientale, perché non ci sarebbe tutta quell'acqua che serve per poter fare un innevamento da zero. Come va visto l'innevamento nelle nostre montagne? Ad integrazione. Cioè, nelle nostre montagne non è che non nevica, è una notizia errata che non c'è neve. Nelle nostre montagne non c'è neve per poter aprire per tanti giorni. Cioè, al Monte Catre, come in tutte le montagne della regione Marche, da fine dicembre la neve è sempre presente, però magari ci sono quei 10-15 centimetri che non sono sufficienti per poter aprire. Ed è qui che è importantissimo l'innevamento artificiale. Su quei 10-15 centimetri che dicevamo di neve naturale, si spara sopra altri 15-20 centimetri di neve. Cosa succede? Che la neve artificiale è una neve molto più resistente alle sciroccate, cioè quindi a quegli eventi che purtroppo noi vicino al mare abbiamo. Essendo più resistente, tu, mischiandola con la neve naturale, crei uno zoccolo di neve che dura molto di più. Quindi puoi partire prima, cioè iniziando anche sotto Natale, che è importantissimo chiaramente per l'offerta turistica, no? E puoi allungare di 10-15 giorni. Ecco che una stagione di un mese e mezzo come quest'anno arriva a due mesi e mezzo, che è il top per chiudere il pacchetto inverno. Nel pacchetto estate bisogna chiaramente investire, ed è qui che entrano i privati, perché non può fare tutto la regione, no? Io dico sempre che è vero che il pubblico, e per noi è stato fondamentale negli anni passati questo concetto. I nostri progetti sono sempre stati ben visti perché hanno visto che il privato ci ha messo i soldi propri, quindi anche il pubblico che ti deve dare dei soldi, dici ok, ma questi di proprio cosa ci mettono? È un po' come una banca, no? Te vai alla banca a chiedere il mutuo, dici ok, io ti do l'80, ma tu mettici il 20 perché ci devi credere su quello che fai, no? E qui è la stessa cosa, cioè qui il privato nell'estate deve intervenire di più. Tra l'altro le attività che si possono fare in montagna insomma anche durante il periodo estivo sono molteplici. Assolutamente, infatti parlavo proprio di questo, quindi dove bisogna andare, in che direzione? Nei bike park, rimettere a posto tutti i sentieri, ripulirli, chiaramente tenerli puliti, fare la segnaletica per i sentieri, perché non dimentichiamo che c'è anche il turista che viene e si porta il suo panino da casa e volvere la montagna in quella dimensione, poi magari verrà al rifugio a prendere un caffè, quindi noi accettiamo anche, anzi abbiamo bisogno anche di questo turista, perché un giorno verrà con il suo panino, poi il giorno dopo verrà e magari si fermerà per qualche giorno. Ma un'altra cosa importantissima dove, nella direzione dove bisogna andare, sono le offerte per le famiglie, perché teniamo conto una cosa che se non diamo offerta alle famiglie, cioè la famiglia è il nodo cruciale del turismo, no? Perché arrivano i bambini, arrivano i ragazzi, se non diamo un'offerta e diamo sempre di più servizi, perché la gente vuole questo, oggi la gente è diventata molto esigente, perché possono scegliere, possono andare dove vogliono, possono decidere di andare dove ci sono più servizi e quindi l'aspetto vincente è questo, fare attrazioni sempre più importanti per le famiglie, quindi vuol dire Kinderland per i bambini, vuol dire parchi avventura e la nuova frontiera del glamping, perché è il turismo su tenda, diciamo con servizi annessi, noi sono già tre anni che lo abbiamo, abbiamo già quattro tende attrezzate per queste, ne faremo probabilmente delle altre e quindi è in questa direzione che bisogna andare. Facendo un pacchetto così, tu passi da un turismo giornaliero, come dicevamo prima, a un turismo di due o tre giorni della settimana, però per 365 giorni all'anno e questo è una spinta per i giovani. Ecco, per i giovani e anche per le famiglie, quindi diciamo che anche il target si allarga, perché la montagna deve essere accessibile a tutti sotto ogni profilo. Michele, quali sono le condizioni per cui il turismo montano può essere volano definitivo delle aree interne? Le condizioni sono appunto quelle che abbiamo appena detto, le condizioni è continuare ad investire, non c'è altra strada e oggi però abbiamo la prova che questo funziona, perché fino a poco tempo fa era solo sulla bocca di noi, diciamo, sognatori di questa cosa. Oggi ci sono i dati, cioè i dati sono molto confortanti, quindi se pensiamo che 20.000 persone solo nella nostra provincia, fra tutti i comprensori circa hanno visitato in un mese e mezzo i nostri territori, quindi parliamo di numeri molto importanti, che possono assolutamente crescere con gli investimenti che dicevamo prima. Teniamo conto che questo tipo di trend può essere supportato solo se noi continuiamo a dare i servizi e per dare i servizi ci vogliono anche nuove attività, perché poi la gente viene ma vuol trovare, come dicevamo prima, vuol trovare i negozi, vuol trovare i bar, vuol trovare i ristoranti, gli alberghi dove stare e questo è il nocciolo, il punto focale. Perché? Perché le aree interne vivono se nelle aree interne rimangono i nostri giovani, ok? Io ormai sono un ex giovane, no? Mi sento ancora in forze, però i giovani vuol dire gente di 25 anni che finisce l'università o anche prima dell'università che finisce le superiori, che decide di rimanere nel proprio territorio. Allora, come si dà speranza a queste persone? La speranza si dà chiaramente con tutta una serie di investimenti e una prospettiva che la loro attività possa funzionare. È chiaro che i giovani ci devono mettere del proprio, come dicevamo prima, no? Come ci mettiamo noi imprenditori un pochino più consolidati, i giovani imprenditori devono sognare, no? Devono sognare stando con i piedi per terra, chiaramente, anche perché adesso ci sono una marea di opportunità per i giovani per iniziare le attività, grazie ai finanziamenti che la Regione tramite i GAL, tramite il PNNR, mette a disposizione. Fondi che coprono il 50, il 60, fino al 70% delle attività. Quindi capite che è una cosa importante, no? Rispetto a chi come noi è partito che deve andare in banca a prendere tutta la cifra. È chiaro che devono stare con i piedi per terra, no? Devono fare un loro piano, devono iniziare anche con attività che non c'è bisogno di spendere due o trecentomila euro. Bastano anche piccoli progetti, perché con cento, centocinquantamila euro, attività di bed and breakfast, attività di piccoli negozi, vuol dire artigianato locale. Anche iniziare attività sulla, per esempio mi viene in mente, anche sull'attività agricole, no? L'allevamento del bestiame. Teniamo conto che, riallacciandoci un pochino al discorso di prima, che dicevamo dell'innevamento artificiale, che è importante, è un passaggio che ci siamo dimenticati. Da noi, nelle montagne, ancora esiste la pratica della monticazione, cioè del pascolo, cioè degli animali che si portano al pascolo, dappertutto, sia al Monte Nerone, sia da noi al Monte Catria, ma in tutte le montagne, anche del Maceratese. Queste sono opportunità per i giovani imprenditori che vogliono andare nel settore agricolo, stare con l'aria aperta, quindi allevamento del bestiame. Quindi prodotti che nascono appunto a chilometri zero. E questo è supportato dal discorso che dicevamo prima dell'innevamento, perché l'innevamento va visto anche come, è grande tema di utilità in questi giorni, la creazione di bacini per stoccare l'acqua, perché non abbiamo più l'acqua. I bacini ad alta quota, apriamo una parentesi, torniamo un pochino indietro, i bacini ad alta quota che servono per l'innevamento, ma il primo scopo dei bacini è quello di stoccare l'acqua che per il 90% viene dispersa. L'acqua piovana, è un dato, quasi il 90% dell'acqua piovana viene dispersa, creando spesso anche dissesti idrogeologici, come abbiamo visto. Quindi cosa succede? Il bacino che sia interrato o che sia all'aperto, come i laghi, per esempio, che come dicevo prima nel Maceratese già ci sono due progetti, verranno realizzati, danno la possibilità in primo di utilizzarli come risorsa antincendio, perché quando la siccità è sempre più una spada di Damocle che è sopra la nostra testa, quindi se dovessero succedere degli incendi, da noi sono capitati, poi bisogna andare a prendere l'acqua lontano, quindi questi incendi si sviluppano in maniera molto più rapida. E quindi l'antincendio è importantissimo, ma dopo l'antincendio è appunto una fonte di abbeveraggio per gli animali che, ecco ci rilasciamo al discorso di prima, per gli animali che sono al pascolo. E' quindi fonte importantissima, perché questo pascolo viene messo in crisi dalla carenza di acqua nel mese di luglio e di agosto. Avere un bacino in quota che tu puoi ridistribuire l'acqua è fondamentale. Poi d'inverno, quando non serve nessuno, serve per la neve, che tra le altre cose, facendo più neve, capisci che è un circolo vizioso che si autoalimenta, tu al posto di usare l'acqua, cioè di non usare anzi, l'acqua che va via, si disperde e crea danni, tu la stocchi, la riusi d'inverno con più neve, la neve si scioglie, si riscioglie più lentamente, va a rialimentare le falde acquifere e quindi è un circolo vizioso che si mantiene. Detto questo, torniamo al punto dell'allevamento del bestiame per i giovani, che è un'altra attività che è importantissima, ci sono tanti giovani che si avvicinano a questo e quindi tutte queste cose fanno sì che i giovani investano e vivano nel nostro territorio. Bene, ci apprestiamo alla chiusura di questo nostro spazio ma anche alla stagione estiva che a questo punto auguro sia ricca, ricca di presenze e gli effetti benefici e positivi di questi investimenti, insomma, li state toccando con mano perché insomma ce n'è per tutto l'indotto, diciamo, e quindi è un motivo di soddisfazione. Assolutamente sì, perché la stagione estiva adesso non va più vista, solo montagna, perché la montagna è un grosso aiuto anche per voi qui che siete al mare, perché per esempio con il mio amico Luciano Cecchini, il vostro compaesano che è presidente dell'associazione dei bregatori di Fano, siamo in stretto contatto perché abbiamo già iniziato lo scorso anno a fare delle collaborazioni. Perché? Perché il mare ha capito che da solo anche lui fatica, non va più da nessuna parte. Abbiamo la fortuna di avere mare, montagna, vicini, quindi questo è un connubio perfetto. Certo, tu sai che spesso quando a me mi capita andare alle fiere, fiere importanti come la BIT, il TTG, come consorzio del re del Catria, quando noi parliamo con i stakeholder in fiera e diciamo che nell'arco di 50 chilometri abbiamo il mare, la spiritualità e meditazione, parche natura attiva con le montagne a 1700 metri, antichi borghi e dolci corrine, i teatri, la cultura, urbino. Quando diciamo queste cose dicono non è vero, non ci crediamo, state vendendo del fumo. Poi quando mettiamo sotto carta canta, come si dice, mostrano grande interesse. Il problema qual è? È che ancora noi non stiamo, non siamo integrati, non stiamo vendendo bene il nostro territorio. Cioè per dirlo in parole povere abbiamo in mano una Ferrari e la guidiamo come una panda, una golf diciamo, via. Ci siamo svegliati molto, grazie alla regione anche che ha investito molto negli ultimi anni nel turismo, ci siamo svegliati molto ma di strada ce n'è tanto da fare. Ma questo è un bene, vuol dire che davanti abbiamo una prateria, cioè non siamo al punto di arrivo ma siamo al punto di partenza e questo è importantissimo. Abbiamo una regione da far conoscere, da scoprire noi in primis. Esatto, anche perché il turista non è più stanziale, cioè non esiste più il turista come una volta che dice andiamo dieci giorni al mare si piazzano lì sotto l'ombrellone, cioè non esiste più questa cosa qui. Il turista viene al mare ma almeno su dieci giorni di mare vuol mettere dentro tre o quattro giorni di visitare i territori interni, vedere cosa c'è, vuol vedere i territori, vuol conoscere e quindi l'integrazione mare e montagna è fondamentale e noi praticamente è un gioco da ragazzi, basta solo metterla in pratica. È chiaro che questo, quindi io mi permetto di fare una battuta finale, come dicevi tu, questo ha le condizioni che dicevamo prima, gli investimenti. Quindi il pubblico ci deve credere ancora più fortemente ma soprattutto, oltre che alla regione, ci devono credere gli amministratori locali delle aree interne. Cioè chi amministra un'area interna, io dico sempre che chi fa il sindaco di un comune dell'area interna deve essere un pochino più sprint, nel senso che quello che ci manca, il valore aggiunto, devono essere le persone. Quindi chi ci amministra, chi amministra le aree interne, che peraltro lo stanno già facendo perché ci sono sindaci giovani che ci sono già in questa direzione, ma devono secondo me ancora spingere di più. Cioè devono non limitarsi all'amministrazione, la normale amministrazione, cioè il marciapiede o la manutenzione delle scuole, le aree interne e questo non basta chiaramente. Devono andare a cercare quei finanziamenti per sostenere nuove attività e quindi io dico sempre che nel mondo di oggi non fare niente o fare poco vuol dire stare fermi. E stare fermi mentre tutto intorno va avanti vuol dire andare indietro, perché se gli altri vanno avanti e tu stai fermo rimani indietro. Questa è una regola sacrosanta. Questo vale per gli amministratori. Per i giovani invece e quindi per gli imprenditori, importantissimo è avere anche un pochino di follia diciamo, di sognare un pochino, perché dietro i grandi progetti ci sono sempre all'inizio dei grandi sogni e quindi i nostri giovani devono stare con i piedi per terra, devono fare progetti importanti ma devono anche un po' sognare, perché il sogno è la locomotiva poi del progetto che andrei a fare. Io dico sempre che chi sogna arriva prima di chi pensa, cioè questa è una regola fondamentale. Bene, grazie Michele Oradei per essere stato con noi, grazie a Riccardo Sora in regia, a tutti voi dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.